Andiamo in Sicilia da Torno Corradini. Nelle campagne della Sicilia avvengono da tempo strane esercitazioni militari che i contadini non si sanno spiegare. Ci sono carri, ci sono elicotteri, scendono Marines tutti attrezzati con armamenti a seguito e pongono degli oggetti anche di misurazione o forse di controllo all'interno del territorio. Fra l'altro in territorio non sono poligoni di tiro, non è territorio militare, ma sono zone coltivate a grano in aperta campagna. Direttore alcuni lamentano di avere perso parte del bestiame perché impauriti, si buttano dalle valli, si buttano nei precipizi, così come alcuni pulegono. Voi come fate a saperlo? Noi abbiamo avuto continue testimonianze. Sono contadini e povera gente che è preoccupata perché nel cuore della notte sente rombi di tuono. Abbiamo delle fotografie che ritraggono proprio questi elicotteri sospesi in aria nel territorio palermitano in cui in una prima fase i Marines americani si facevano avvicinare e fecero delle foto con alcuni contadini. L'ultima è proprio stata registrata la vigilia di Pasqua, ma riteniamo che queste operazioni non siano autorizzate perché altrimenti sarebbero avvenute in zone militari. Abbiamo chiesto spiegazioni e ancora dal Ministro della Difesa non arriva nessuna informazione, nemmeno dall'interno. Viene quasi da dire che gli americani qua in Sicilia fanno quello che vogliono. Sì, sono sbarcati tanti anni fa e continuano a sbarcare ancora ora indisturbati anche nel cuore della notte. Vabbè, tanti anni fa sono sbarcati in una guerra di liberazione, adesso però la situazione è leggermente diversa. Fava, ci scappa come si dice un'interrogazione parlamentare o qualcosa del genere, insomma un'azione politica per cercare di fare... perché credo che di questo non si sappia niente in giro. Sì, ci scappa ed è anche giusto che si chiarisca una volta per tutte quali sono i limiti e i doveri all'interno di un rapporto di collaborazione. Dobbiamo farlo, a giudicare dai titoli di coda, dobbiamo farlo in 30 secondi. Grazie. Grazie. Grazie.